Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Loris98, buon santo Stefano a tutti come potete vedere siamo qua a Paradiso, qua c'è la postazione della telecamera, qua vedete che c'è la traversata genida ragazzi di Paradiso all'interno di questo meraviglioso lago Ceresio, qua in compagnia del nostro Alessandro Chinelli buon santo Stefano anche a te Ale, buon santo Stefano a tutti, grazie e poi ci sarà anche il nostro Axel Paderni che poi vedremo più tardi, quindi ragazzi da questo scupendo panorama ci vediamo tra poco intanto vi ha scritto l'annuncio iniziale del tuffo in Paradiso, praticamente qui Paradiso in movimento eccolo lì, prontissimi, tra pochi istanti in diretta, qua abbiamo ecco la diretta di Alessandro Chinelli tutti con il cappello da bavo Natale tranne io, beh comunque ragazzi Natale era ieri intanto abbiamo anche la mitica Fontana dietro alla telecamera, dietro alla vela che si sta anche spostando tra l'altro grazie che mi fa vedere la stupenda Fontana di tutto ed ecco anche Axel Paderni, ciao Axel, buon santo Stefano forza Lois e adesso prontissimi, prontissimi, ecco tutti pubblico, RSI anche, attenzione abbiamo anche il servizio della RSI che in questo momento sta intervistando qualcuno già c'è già un'intervista in corso bene tra poco ci si tuffa se c'è ancora qualche temerario che desidera iscriversi il tuffo inizierà alle 10.30 quindi c'è ancora un po' di tempo grazie allo speaker ufficiale della tuffata in Paradiso per i partecipanti ritrovo e qui davanti all'inizio del bellissimo tappeto rosso esatto, eccolo lì, tappeto rosso tappeto rosso stile natalizio con tanti babbi natale eccolo lì tutto il tappeto rosso che va fino alla piattaforma Paradiso in movimento tra poco siamo pronti con tanti babbi natalizio con tanti babbi natalizio con tanti babbi natalizio quanti sono questi coraggiosi? tantissimi i sorrisi di coloro che restano dall'acqua ci dicono che forse è anche piacevole godersi un momento di acquacinità rigenerando bene, si è conclusa questa traversata genida nelle acque del Paradiso ringraziamo anche il nostro Alessandro Chinelli che ci ha fatto le riprese per me, grazie Ale ovviamente per tutto il pubblico presente anche per la postazione regia quindi per la diretta e tutto anche il nostro Axel Paderni che a questo punto sta andando a fare le interviste post partita un po' di panorama ancora nell'attesa Paradiso in movimento lo stupendo lago di Lugano lago Cerenzio è tutto un saluto dal nostro Axel Paderni ciao Axel buon Santo Stefano ciao Alessandro un saluto anche a te ciao ciao stupendo panorama da l'anese 98 è tutto ragazzi alla prossima ciao ciao